Buongiorno a tutti! Oggi siamo a Pintura di Bolognola in provincia di Macerata. Stiamo piano piano salendo, impianti chiusi perché è il periodo di Covid-19 e eravamo indecisi se ciaspolare o sciare, ma alla fine ho vinto lo sci, lo snowboard, mi punta un po' in testa e vi farò assistere a tutte le mie cadute perché è la mia prima volta in neve fresca quindi cadrò tante tante volte. Allora ragazzi, laggiù quella puntina lì è Pizzo Trevescovi, nella selletta là in mezzo c'è il rifugio del Farnio mentre questo a destra è Monte Rotondo, andate a vedere la relazione che ho fatto su crocidivetta.com di quando siamo stati alla croce di Monte Rotondo e Monte Rotondo per poi arrivare al Farnio e già metterà eccetera. Noi adesso stiamo ancora salendo, c'è tanto vento, è una bellissima giornata. Quanta fatica per una sciata, però è tutto bello, la montagna è tutto bello. Dopo un primo momento di pista battuta, adesso abbiamo la fresca. Questa è la prima volta che vengo a Pintura di Bolognola perché, cado cado cado, perché qui ci sono tutti i script e per chi ha lo snowboard non è proprio il top. È bellissimo, chissà se ce la farò fare una discesa in fresca o cadrò mille mille volte, per me è la prima volta. Quest'anno è l'anno delle prime volte, la prima volta con le ciaspole, la prima volta con i ramponi, la prima volta su fresca. Proviamo, oggi ce n'è veramente tanta, bellissimo, c'è anche tanto vento, speriamo si calmi un po'. Al prossimo episodio non è semplice bene ragazzi non vi faccio vedere lo scempio delle mie discese in fresca perché sono veramente agghiaccianti ma adesso penso che dopo due discese che salgo scendo sono già sfinita perché cado sempre guardate la tavola è completamente sotterrata penso che adesso me la leverò perché c'è una salita e poi arriverò fino alla pista che è battuta e poi scenderò da lì ragazzi se vi ritrovate in questo sacrificio soprattutto della fresca che rimanete sotterrati dalla neve mettete un mi piace e condividete la mia disgrazia un bacio e 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